buongiorno gente form per nero tv diretta vecchie signore direzione le mazantine mon basilio verso mondo v tutta roba impeccabile e vanno un po pianino perché dici che che porta ma un po di rumore si sente di sottofondo che sta arrivando qualcosa quando sono 52 ah oh sta arrivando già qualcosina hello sharon una della carolina che ci guarda la seconda è quella buica la prima cos'è la prima di carbolino spettacolo impressionante roba penso che in italia una delle viette più belle è questo qua guardate che spettacolo di mezzi che sta arrivando che gioiellini che gioiellini c'era alcun cagliere ma vabbè era lì in mezzo spettacolo bella è un'americana serie eh ho visto ho visto anche bravi bitonali ma che bella bellissima che spettacolo bella 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 Grazie a tutti. Sì, ma è meglio quello, stesso colore, più o meno. Che bella, cazzo che spettacolo. Dimmi. Dimmi. Dicevi? Brucia le sue gomme! Brucia! Questa è unica! È l'ultima! Eh? Chiudiamo qua, alla prossima diretta. Ciao a tutti! Buondi! Sempre il forum per NeroTV. Medi spettacolo! Buic! Buic! È una roba impeccabile! Buic! Che spettacolo! Della forum c'è sempre, è qualcuno! Eh? E diventa la forum quella, vedi? Vi mettiamo che non si trova, non si trova, non si trova, non si trova. 6-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-5-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6. Questa è una bella base per un rod con il Fiat Le, dici di no? Questa basta mettere un vuoto, è già posto, è già fatta questa cosa, in Italia cosa sta a fare lì? Vita la, 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 vita la. Ma matta. Questa cosa non c'era questa qua? No. Che spettacolo questa qua. Ciao. Buon anno a tutti. cinquantadue e mezzo ci sono che spettacolo questa c'è che bello mano postati postati non c'è quello che è non c'è non posso neanche parlare perché non so neanche so che c'è dei fiat c'è un po di tutto ma veramente roba impeccabile ah che bella questa balina che bella adesso parte la forma un pannello tv è 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 Grazie per la visione